Cosa vuoi ricevere ora questa skin? Se anche tu mi piace da 5 se non ti puoi andare a lasciare un bellissimo like Quindi 5, 4, 3, 2, 1 e vai a lasciare un bellissimo like in questo momento se vuoi ricevere anche tu questa skin ora gratis E raga da come sapete in questi giorni uscirà la season 2 capitolo 4 E andrò a fare alcuni regali a voi che mi lasceranno i propri id qui sotto nei commenti Quindi se vuoi ricevere un regalo da parte mia lascia il mio titolo qui sotto nei commenti Adesso utilizzo il codice codinggamercv82 e anche perchè ci siamo quasi sempre per avvicinare la skin Fenix E al suo arrivo che sarà una skin completamente gratuita che tutti quanti i giocatori potranno andare a riscattare Cominando delle missioni come riavvio un amico Non è finita qui perchè se questo video raggiunge i 50 like andrò a rilasciare un codice skin qui sotto nei commenti E vi andrò a fare un regalo ad uno di voi quindi cosa aspettando? Ciao ragazzi, bye!